Ceste di Preturo, piastra 20, alle mie spalle i balconi crollati che ieri mattina sono venuti giù nell'alloggio del progetto case. Di fronte c'è un'altra piastra sequestrata nei mesi scorsi dove si era già verificato un altro crollo. Evidentemente non è successo nulla alle persone in quanto tutto quanto il complesso di ceste di Preturo è stato sequestrato, ma è evidente che i problemi strutturali si stanno palesando ogni giorno di più ed è necessaria una decisione su quale futuro destinare a tutte queste nuove new town. Ancora un crollo e ancora accese di Preturo. Ancora una volta alla vigilia dell'anniversario della tragedia del sisma, il progetto case, pensato e realizzato per dare un alloggio temporaneo agli sfollati, mostra tutti i suoi limiti e le criticità strutturali. Sempre accese, già nel settembre 2014 un balcone venne giù da un appartamento, con conseguente inchiesta e sequestro della piastra antisismica. Anche per questo ieri mattina una potenziale tragedia è stata evitata. Un nuovo balcone infatti è venuto giù schiantandosi su quello dell'alloggio sottostante che è poi stato rimosso. Una piastra diversa da quella di settembre di un anno fa, ma stesso problema. Legno Fratico è una struttura crollata dopo solo sette anni, eppure si era detto, al momento delle varie inaugurazioni delle new town, che le case antisismiche sarebbero durate almeno 30 anni. Per le operazioni di rimozione del balcone effettuate dai vigili del fuoco, l'area è stata interdetta alla circolazione. E ciò che emerge è che probabilmente saranno evacuate altre 12 piastre nelle prossime settimane, a seguito dei rilievi effettuati dal comune. Criticità che riguardano complessivamente il 10% del patrimonio del progetto case, che il comune sta pensando di ammattere. Anche se i costi 10 milioni complessivi per l'operazione, il comune proprio non sa dove reperirli.